Il tennis italiano ormai sono 20 anni che non fa altro che crescere. Finaghi ha preso la federazione 23 anni fa, che non stava proprio in uno stato di salute buonissimo e in questi 23 anni ha fatto delle cose importantissime. Ha rilanciato il tennis italiano, abbiamo avuto risultati importanti con i giocatori, in Fed Cup, con il movimento femminile, le nostre ragazze hanno vinto degli slam, siamo ritornati in Serie A, ha riorganizzato e riportato il torneo di Roma tra i più importanti tornei del mondo. La nostra federazione ha preso il Next Gen, ha riportato questa federazione tra le più importanti federazioni del mondo e soprattutto ha ottenuto una grandissima credibilità in tutto il mondo del tennis. Questo è un altro grossissimo risultato che si aggiunge a 20 anni di crescita di questo tennis. Torino è cresciuta molto in questi ultimi anni e poi si è preparata molto bene per poter accogliere questa manifestazione. Torino è una città bellissima, è una città con le strutture, ha un impianto che è il più grande d'Italia per poter ospitare pubblico, è la città giusta per questo tipo di evento. Qu'è per poter offrire questaرجime? N Zuckerberg